Ecco, vediamo se riusciamo, siamo sopra il Nilo, qui abbiamo dei puzzi di cosa, sembrano dei marziani che sono arrivati sulla luna, praticamente, e in fondo si vede il panorama di un padre africano, su confine tra Sudan ed Egitto, una follia, si non capisce bene, sono dei cerchi concentrici strani, ma sono cerchi di UFO, cerchi di UFO tra Egitto e Sudan, il Nilo ci sfugge. E' un certo, un certo completo, a parte di cerchi. Grazie.